No, guardi, io credo una cosa che intanto la domanda che dovremmo porci è se c'è un'Europa o meno, perché se ci fosse un'Europa difenderebbe i propri confini, cosa che non ha fatto, lo dimostrano i fatti ben noti purtroppo dell'Italia, piuttosto che quelli della Grecia, lo hanno rappresentato in parte i problemi che si sono creati in Spagna. Quindi da questo punto di vista se l'Europa c'è deve battere un colpo e lo deve far sentire veramente forte nella difesa dei propri confini, perché è vero che Schengen ci dà la possibilità a noi europei di poter circolare in tutto il territorio, in tutti gli Stati membri, quindi i 26 Stati che hanno diritto a Schengen, ma bisogna poter garantire ai cittadini europei di poter circolare in sicurezza. Perché io lo voglio ricordare, la sicurezza è un diritto al pari del lavoro, al pari della casa e purtroppo è sempre meno, esatto, e purtroppo è sempre meno invece un diritto tutelato, quindi in tal senso noi siamo, e lo ha detto chiaramente Matteo Salvini, noi siamo assolutamente contrari alla politica dei fili spinati, dei muri, ma allo stesso tempo chiediamo che vengano difesi, controllati seriamente e difesi i nostri territori. In questo senso l'interesse nazionale che noi diciamo e sosteniamo che sia fondamentale difendere va proprio in questa direzione, ossia se l'Europa non è in grado di difendere i confini italiani, che noi sappiamo bene essere al pari della Grecia, i confini dell'Europa mediterranea, come possiamo pensare che un'Europa esista? Quindi oggi più che mai è fondamentale garantire la sicurezza della circolazione. Purtroppo abbiamo visto che qui si sta parlando di un esodo impressionante, cioè i numeri dell'immigrazione, delle persone che arrivano nel nostro continente sono numeri impressionanti e sappiamo bene che purtroppo non tutti sono immigrati che hanno poi diritto sacrosanto di vedersi riconosciuto. Noi in questo senso chiediamo che venga garantita la possibilità, laddove non sia in grado l'Europa di farla, dei singoli stati di potersi, tra virgolette, difendere nella misura in cui di poter effettivamente attuare quelle che sono le norme previste. Per esempio le espulsioni, cioè in Italia, lo avete fatto vedere prima, quali sono i limiti purtroppo grandissimi di un accordo che stenta a decollare. In Italia dovevano partire i ricollocamenti, dovevano partire le espulsioni per gli immigrati clandestini che quindi non hanno titolo a stare nel nostro paese. Purtroppo tutto ciò accade molto in ritardo, per colpa delle autorità italiane ma anche per colpa di, diciamo, mi permetta di dirlo il parlamentare europeo presente in collegamento, che non ho il piacere di conoscere personalmente, che purtroppo in questo caso l'Europa, e lo dimostra Berlino, che ha attuato utilizzando l'articolo 25, se non sbaglio 25-24 di Schengen, la possibilità del controllo dei propri confini, quindi a partire dalla Germania di Angela Merkel, hanno attuato delle protezioni, così come la Francia, era inevitabile che ciò accadesse.